Buona Pasqua della settimana, carissime amiche e carissimi amici, anche a te, carissima Anna Maria, i nostri tecnici, ringraziamo sempre per il loro lavoro e ci permettono di venire in onda e parlare a voi tutti. Oggi, la seconda domenica del tempo ordinario, abbiamo lasciato ormai il tempo di Natale con la domenica del battesimo, questa seconda domenica riprende la scena della relazione tra Giovanni Battista e Gesù. Questa volta siamo nel grande quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, che ha un modo tutto suo di raccontare. Ecco perché la scena viene introdotta da un'espressione che è tipica di Giovanni e Paurion, l'indomani, questo avverbio che scandisce la prima settimana di Ministero di Gesù, l'indomani, 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 al terzo giorno poi saremo a Cana di Galilea, che è esattamente la terza epifania. Cana di Galilea avviene al sesto giorno, anzi al set meno uno, quasi a dire aspetta la pienezza, Cana aspetta la pienezza del settimo giorno, che è il momento della croce, un po' come era avvenuta la teofania al Sinei in Esodo 19, al sesto giorno. È certo che Gesù si sottopose al rito del battesimo del Battista, questo lo riportano tutti e quattro i Vangeli. Il precursore aveva creato una sorta di movimento, li potremmo chiamare i Giovanniti o i Battisti, e questo movimento durerà fino al secondo secolo, quindi non tutti i discepoli di Giovanni aderiranno a Gesù Cristo. Ed è stato particolarmente attivo in Trangiordania. Negli Atti degli Apostoli, Paolo ad Efeso, in Atti 19, incontra altri discepoli di Giovanni Battista, che conoscevano solo quel battesimo, non conoscevano il battesimo dello Spirito Santo. Anche Giuseppe Flavio, che è una preziosa fonte extrabiblica, parla di questo movimento. Il Battista ha esercitato soprattutto il suo ministero presso il fiume Giordano e la gente accorreva a lui. C'è un movimento di gente che è causato proprio da questa predicazione. Il regno di Dio sta per avvicinarsi. Il Battista entra addirittura in contrasto con Erode Antipa, il quale aveva sposato illecitamente e stava con la cognata Erodiade. Per questo il povero Giovanni era stato rinchiuso in prigione al Macheronte e poi sappiamo subito e da tutti quanti ricordiamo la scena della decapitazione in questa fortezza asmonero-erodiana. L'Evangelista Giovanni mette a confronto il Battista con Gesù, dichiarando subito la superiorità del Cristo, perché egli si è fatto discepolo dell'ultimo dei profeti. Molto bello questo. Ma rispetto ai Vangeli Sinottici, qui in Giovanni il Battesimo intende affermare soprattutto la testimonianza di Giovanni. Giovanni più che il precursore, più che il battezzatore, il Battista qui rappresenta il vero testimone. Infatti domenica scorsa è Gesù che ha visto scendere lo Spirito su di lui. Qui invece nel quarto Vangelo il Battista è lui che vede lo Spirito scendere sul Cristo. Giovanni ha nota, Giovanni evangelista. Lo Spirito scese sul Cristo e rimase su di lui. E rievoca quella famosa profezia che abbiamo letto nell'Avvento, Isaia 11 al versetto 2. Lo Spirito del Signore è su di me, direbbe Gesù. Quindi Gesù possiede lo Spirito in pienezza, in modo permanente. Tutta la vita di Gesù, opere e azioni, Gesù l'ha compiuto avendo lo Spirito sempre su di lui, fino al punto che poi sulla croce è diventato lui la sorgente dello Spirito. Chi nato il capo diede lo Spirito, ci ha donato lo Spirito. È il famoso versetto 30 del capitolo 19 del quarto Vangelo. Qual è la figura del Battista oggi? Colui che ammira Gesù che cammina. Che bello questa scena. Non si sa di Gesù da dove venga né dove vada. È solo descritto questo movimento, perché la vita di Gesù è stato un cammino continuo verso il mistero pasquale. Lo vede, ecco, una visione ovviamente non fisica ma di fede. Giovanni profeta definisce Gesù ecco l'agnello o il servo. Ovviamente sotto c'è una parola aramaica, talià, che indica tutte e due le cose. Gesù è l'agnello pasquale, ma anche il servo di cui parlavamo domenica scorsa in Isaia 42. Per indicare che Gesù è veramente colui che salva, è il vero agnello pasquale, ma anche l'unico servo. Lui rappresenta il padre. Servo in questo senso. Lui è lo sposo dell'umanità. Lui è la persona più intima del padre. Lui, abbiamo detto domenica scorsa, citando Monsignor Bruno Forte, lui è la soglia tra l'eternità e la storia. Gesù non è venuto a liberare da un Egitto qualunque, ma dal peccato, cioè dall'incapacità dell'uomo di realizzare la propria vita senza l'amore di Dio. È talmente forte questa espressione che noi la usiamo ogni volta prima di fare la comunione. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie, che distrugge, che cancella il peccato del mondo. È l'espressione di Giovanni 1,29, che tutti i sacerdoti prima di fare la comunione per sé e agli altri ripetiamo questa preghiera meravigliosa. Lui è colui che toglie, distrugge il peccato. Ecco, Dio ha inviato Gesù per farci superare il fallimento, l'impotenza che ci portiamo dentro. Senza la grazia, direbbe Paolo, non possiamo salvarci. Notate anche, amiche e amici carissimi, anche tu carina Maria, che Giovanni non usa il plurale. Nel prologo, lo diciamo, dice la tenebra, non l'ha accolto la luce, usa il singolare. Per noi suona strano. La stessa cosa qui, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, usa il singolare. Perché? Perché è il segno dell'imperfezione, della corruzione dell'umanità. Il peccato, il grande peccato per Giovanni è il non credere, non aderire a Gesù Cristo, che è il vero agnello e il vero servo. Ecco perché oggi, nella scena del quarto Vangelo, sia Gesù che Giovanni Battista partecipano allo stesso evento rivelativo. Vedono questo spirito, Giovanni lo vede come colomba, ha il senso della sapienza, la colomba ha il senso della sapienza, della rivelazione finale. Lo spirito scende e rimane stabilmente sul figlio di Dio, fino a quando poi dalla croce lo donerà. Oggi il quarto Vangelo ci presenta il Battista come il testimone che contempla questo momento. Ha compreso, cioè, che il padre ha mandato il figlio con una missione, formare il popolo di Dio nell'amore, che solo raccoglie, purifica e salva. Senza l'amore non si salva nulla. Ecco perché Giovanni Battista oggi è colui che riceve una missione, rivelare l'eletto di Dio. Quindi deve fare questa rivelazione. Lui è il testimone, è l'amico dello sposo, l'amico del servo di Adonai, direbbe Isaia 42. Quindi è bella questa storia di Gesù che entra nella vicenda del Battista e nella storia del mondo e quindi entra nella nostra vita. E ci introduce in uno stile tutto particolare, perché le parole e gli eventi che Cristo vive sono proprio della presenza amorevole del padre. Il padre in Cristo e nella forza dello spirito ricrea ogni cosa, rinnova tutte le cose, fa nuove tutte le cose. Che bella questa meravigliosa immagine di un Gesù sulla soglia, che ci insegna ad adorare il padre e ad agire, ad realizzare la giustizia del padre. Per cui il Vangelo di questa seconda domenica, nel tempo ordinario del ciclo A, è la rivelazione che in Gesù è presente, dimora lo spirito e che gli viene dotato nuovamente dello spirito. Non è che gli viene dato, è continuamente lo spirito su di lui. Fin dall'inizio della sua vita pubblica tutta la famiglia di Dio, il padre, il figlio, lo spirito sono collegate e la comunità cristiana vede in questo evento il realizzarsi dei tempi messianici. I profeti avevano promesso una speciale effusione dello spirito. Ebbene, oggi il quarto Vangelo ci dice che il padre si fa conoscere nel figlio e lo fa conoscere al Battista, perché il Battista lo possa far conoscere ai suoi discepoli. Così si crea un collegamento tra la pericope del Battesimo di oggi e poi quella successiva della chiamata dei primi discepoli in Giovanni 1, 35-41. C'è una sorta di catena di trasmissione. Sì, possiamo proprio chiamarla così. Il padre, il Battista, i discepoli, poi tutto il riferimento è Gesù. Lo spirito scende di mura su Gesù, il quale poi ne diventa il grande dispensatore attraverso la sua parola. Sì, perché la parola di Gesù ci consegna lo spirito, lo spirito ci dà la vita. E quindi anche noi oggi, raggiunti da questo amore, siamo immersi in questo esodo verso la vita definitiva. Ecco che significa anche adorare, percepire che noi siamo in cammino verso la vita definitiva. E oggi ci è dato il compito di rispondere con responsabilità a questo dono ricevuto. Dobbiamo essere forti della consapevolezza. Come dirà Gesù in un discorso prima dell'ultima cena, senza di me, voi non potete far nulla. Avere la percezione che dipendiamo da Dio diventa l'atto più intelligente che un uomo e una donna possa fare e diventa davvero l'atto più di fede, più religioso che possiamo fare. Dipendere da Dio è la nostra salvezza. Chi lo riconosce vive già nell'umiltà e comincia già qui a vivere quella vita definitiva. Buona Pasqua della settimana, amiche e amici carissimi e a voi tutti che ci avete ascoltato. Shalom.